Allora questa è per me la prima volta che prendo parte ad un progetto cinematografico perché si tratta proprio di uno stile che si adotta nel cinema, differente sicuramente da quello del teatro quindi l'impegno sicuramente sarà maggiore, il mio personaggio sarà introverso, deciso e molto determinato a cacciare via l'occupazione tedesca è praticamente il contrario di come sono nella realtà sono sicuro che la regista riuscirà a fare un ottimo lavoro per quanto riguarda la lavorazione e il cambiamento dei personaggi l'elaborazione dei personaggi tra l'altro in pochissimo tempo siamo diventati praticamente una grande famiglia tra registi, troupe, staff, cast, anche gli altri attori ora per il momento ho conosciuto bene soltanto gli altri 5 partigiani che fanno parte appunto della squadra della Resistenza però piano piano avrò modo di conoscere anche l'intero cast del film sono molto molto contento di poter far parte di questo progetto e sono convinto che la storia che il film vuole raccontare sia comunque una storia che piacerà sicuramente al pubblico che raggiungerà questo progetto